In archivio la 38esima edizione di Mediterranea, la tre giorni dedicata alle tipicità agroalimentari abruzzesi, manifestazione tra le più longeve d'Abruzzo. Nonostante le sue 38 primavere, Mediterranea quest'anno si è presentata più frizzante e giovane che mai, con la grossa novità di testimonia all'influencer e tiktoker che hanno davvero fatto la differenza. Rucola, Francesca Caldarelli, Davide Ianni, sono solo alcuni dei nomi che hanno catturato le attenzioni di circa 12.000 persone nelle tre serate che si sono svolte al porto turistico Marina di Pescara. Altrettanto seguiti sono stati i momenti di formazione con i Gal, Slow Food, Enoteca regionale e Consorzio Tutela Vini. Successo anche per l'anteprima di Fermenti, il Festival delle Biri Artigianali che si svolgerà dal 29 agosto al 2 settembre, sempre al Marina di Pescara, e per le oltre 40 etichette di vino che rinfrescavano gli stand di C'era solo a mare, iniziativa itinerante di confesercenti pescare. Oltre a queste attività coinvolgenti, da sottolineare la vasta area espositiva con 21 aziende dell'agroalimentare, 6 del settore turismo, 9 stand nell'area street food molto apprezzate da visitatori e turisti catturati da un piano di comunicazione digitale capillare composto anche dal contest Core a Core la tua anima abruzzese. A vincere il primo premio del contest pari a 500 euro messo a disposizione dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, Luigia Imbastaro con il video Anima e Radici. Ed ora riavvolgiamo il nastro di Mediterranea partendo dall'inaugurazione. L'enicoastronomia è un motore trainante anche del turismo perché c'è una quantità di turismo che si muove anche dove sa di mangiare bene. Per cui noi questo è un biglietto da visita che portiamo avanti perché il nostro territorio effettivamente ha prodotto agroalimentare di altissima qualità e di genuinità. Secondo lei chi verrà a trovarvi qui a Mediterranea? Poi tornerà magari nella propria casa oppure addirittura fuori dall'Abruzzo? Con che idea di questa fiera e dell'Abruzzo? Io mi auguro come soggie che è già capitato a tanti che torneranno in quelle attività nella quale trovano qui il prodotto, faranno i loro acquisti perché l'eccellenza che trovano qui non lo possono certamente trovare nelle grandi città dove purtroppo il prodotto agroalimentare arriva d'altrove. Sono oltre 50 espositori tra quelli presenti singolarmente nell'area espositiva e quelli che sono presenti attraverso il consorzio Tutelavide Abruzzo, attraverso l'Enoteco regionale, attraverso i Gall e Slow Food con i vari presidi. Quindi numeri rilevanti. Oltre alle aziende del food che chiaramente sono il core della nostra manifestazione e quindi hanno la parte principale ci sono anche aziende operatori del turismo perché l'idea era quella di promuovere il territorio tutto tondo, offrendo quindi quello che il nostro territorio ha di bello sotto il profilo dell'enogastronomia e del turismo esperienziale. Quindi chiaramente non soltanto numeri ma tanta bellezza, tanta enogastronomia, tante eccellenze. Sì, tanto contenuto, è vero. Da sempre Mediterranea punta la qualità. Non a caso il claim è eccellenze dell'enogastronomia abruzzese e cerchiamo sempre di tenere molto alto il livello delle produzioni presenti. Sono tutti appunto produttori, rigidamente produttori, abruzzesi e sono rappresentate un po' tutte le tipicità dall'olio, al vino, alla pasta, ai sottaceti, allo zafferano, all'aglio rosso di sulmona, all'aglio nero, il peperone dolce d'altino. Insomma c'è un po' tutta la varietà di prodotti nel nostro territorio. Abbiamo fatto di tutto perché chi verrà a trovarci va da casa con un ricordo di un territorio che offre tanto, con prodotti di eccellenza, con la curiosità anche magari di andarli a ricomprare questi prodotti, di andare a visitare i posti che verranno proposti appunto dagli operatori turistici. E quindi l'idea è quella di offrire un territorio tutto tondo, come dicevo, e una regione, che è la nostra stupenda regione, che ha veramente un grandissimo potenziale. E dopo le voci della Camera di Commercio Chieti-Pescara, quelle istituzionali. Questo è un momento strategico per l'Abruzzo, per le sue eccellenze, per le sue tipicità. In un momento in cui stiamo, come Sistema Italia, valorizzando e proteggendo il brand Made in Italy, che è uno dei più famosi al mondo, riuscire a promuovere le tipicità e le eccellenze abruzzesi è sicuramente strategico. In quanto ciò che è tipico, ciò che racconta il nostro territorio, che racconta la bellezza e la bontà dell'Abruzzo, è facilmente inseribile in questo percorso di valorizzazione del Made in Italy, che avrà, che sta già avendo, ma che avrà ancora di più nel futuro, riscontri molto positivi, non solo nel continente europeo, ma in quello mondiale. Quindi è un ottimo momento. Sicuramente un'ottima vetrina con in mostra le eccellenze della regione. Noi già le conosciamo, però ci sono tanti turisti, visto il periodo estivo. Ci sono i turisti, ci sono molti buyers internazionali. Poc'anzi parlavo con dei buyers che venivano dal Belgio. C'è anche una parte di stampa internazionale, che sono tutti elementi che consentono di raccontare la nostra regione nel mondo e di raccontarne davvero gli aspetti migliori, che ci permettono di contraddistinguerci rispetto a un panorama mondiale e che sempre di più si va appiattendo. Quindi noi che abbiamo delle cose che ci rendono unici, abbiamo sicuramente un percorso più semplice da seguire. Occorre però continuare a spingere, a valorizzare, a metterci buona volontà, tanto impegno e crederci fino in fondo, senza mollare mai. Credo che il rapporto tra cibo e anche natura sia indissolubile. Noi siamo considerati la regione verde d'Europa, perché abbiamo tanti parchi e tante riserve naturali. Anzi, credo che siamo al top. Guardate, io vi rivelo uno scopo. Ho sempre pensato che l'assessorato al turismo e l'assessorato all'agricoltura dovessero andare insieme. Convinta come sono che sono due asset strategici per Regione Abruzzo e sono entrambi improntati nel loro sviluppo agli stessi criteri e si sposano benissimo. Sono insieme in grado di raccontare il meglio della nostra regione. Presidente Marsilio, possiamo dire che nel piatto di Mediterranea c'è tutto il buono dell'Abruzzo? Sì, c'è tanto del buono dell'Abruzzo, ce n'è ancora tanto altro, ma Mediterranea offre senz'altro una vetrina importante, esaustiva. Insomma, chi vuole conoscere le cose particolari, e anche alcune specialità che ogni anno se ne scopre qualcuna nuova può venire a Mediterranea e troverà davvero delle cose molto sfiziose, molto interessanti. E parlare poi con gli stendisti, gli espositori, è un'esperienza nell'esperienza, perché ognuno di loro ti racconta una storia, una procedura, un procedimento, un metodo particolare che deriva da tradizione, ma anche dall'innovazione, dallo studio e dalla ricerca su prodotti secolari, millenari della nostra terra, ma che si cerca sempre di interpretare con i tempi che cambiano, con i tempi che vanno avanti. Quindi una bellissima esperienza e mi auguro che in tanti colgano questa occasione e vengano qui alla Marina di Pescara a visitarla. Sindaco Masci, che momento è questo? Un bel momento di promozione del territorio, di questo porto turistico meraviglioso, di una città come Pescara che è sempre accogliente e attrattiva e la possibilità per tante aziende della nostra comunità, del nostro territorio, della nostra realtà, di potersi mettere in mostra in una condizione bellissima come quella del nostro porto turistico, che è sempre una chicca all'interno della città. Quindi c'è tutta la positività possibile. Oltretutto quando parliamo di eccellenze, di eccellenze italiane, l'Abruzzo si colloca certamente in una fascia alta. Le nostre eccellenze no gastronomiche oramai hanno raggiunto livelli altissimi di gradimento e qui trovano la loro affermazione con una vetrina che è quella del porto turistico e con una città che è quella di Pescara, che è sempre la porta dell'Abruzzo. A chiudere la prima giornata di Mediterranea, l'influencer Rucola. Io ho appena effettuato un workshop, un'attività con dei bambini, che è una cosa che faccio spesso anche nelle scuole. Ho girato un po' varie parti d'Italia in cui propongo questa attività e cerco di sensibilizzare i bambini appunto sul tema degli sprechi alimentari. Quindi cerco di far capire loro che dietro lo spreco di un cibo, di un alimento, c'è in realtà lo spreco di tante altre risorse, di acqua, di suolo, di manodopera, anche di tempo se vogliamo. Quello che cerco poi di fare dal punto di vista pratico è farli dipingere con delle tinture naturali, diciamo così, ricavate proprio dagli scarti alimentari. In particolare oggi ho utilizzato le bucce di cipolla e degli scarti del cavolo viola per ricavare dei colori. E questo lo faccio per cercare di far capire loro che in realtà quelle parti che noi consideriamo scarti sono molto utili e molto nobili. Quindi dobbiamo cercare di utilizzarle in qualsiasi modo possibile. Ovviamente io sui social cerco di far capire alle persone di utilizzarle in cucina, però con i bambini questo non è possibile e quindi ho inventato un po' altre attività per sensibilizzarli in questo senso. Perché rucola? Perché la rucola mi piace tantissimo e trovo che sia un alimento frizzante così e io cerco di essere esattamente come la rucola, quindi un po' amara ma anche un po' croccante e soprattutto io lo scrivo sui social con due O, è proprio un gioco di parole con la parola cool in inglese che vuol dire divertente, simpatico, quindi diciamo che riassume un po' quello che io cerco di portare sui social. Tante le scoperte avvincenti anche nella seconda e terza giornata. A soddisfare Mente Palato si sono avvicendati di battiti, show cooking e corsi in spazi appositamente dedicati. E qui siamo in un angolo particolare, quello dei vini, dei gran vini, non soltanto abruzzesi tra l'altro credo, ma ne parliamo con Carmine Cipollone, che è un sommelier della Fissar l'Aquila. Sì, questo è un angolo dedicato a delle cantine che hanno avuto dei riconoscimenti per i vini che hanno prodotto e sono vini che hanno caratteristiche diverse, principalmente abruzzesi, ma non soltanto abruzzesi. E qui si parla di eccellenze. L'Abruzzo in campo vitivinicolo, siamo a buon punto credo, dopo magari tanti anni di fatica e anche di lavoro. L'Abruzzo, le cantine abruzzesi hanno fatto un grandissimo salto di qualità, e ormai i loro nomi sono conosciuti dappertutto. È frutto sicuramente di una ricerca dell'eccellenza continua, finalizzata proprio a costruire dei vini in rapporto anche a quello che viene richiesto dalla clientela. Stando poi al Marina di Pescara, non poteva mancare l'incontro con Chi ama il mare. Loro sono gli equipaggi di appuntamento in Adriatico, manifestazione a tappe promossa da Asso Nautica con l'obiettivo di valorizzare il turismo nautico. Qui ci sono tanti equipaggi provenienti da diverse regioni. Sì, noi raccogliamo amici del Veneto, amici del Friuli, siamo Emiliano Romagnoli, concentriamo qui il grosso dell'utenza, ma poi si aggregano i marchigiani, e avete sentito la brussese domani, Francesco che verrà con noi. dove andiamo portiamo un vento di allegria, di vivacità, perché siamo tutti entusiasti della nautica. Il Presidente della Marina di Pescara ricorda le iniziative legate alla 38esima edizione di Mediterranea. Nel Marina di Pescara, all'interno di Mediterranea, quest'anno nella zona food, c'è la prima tappa di Cerasuolo a mare, che è l'undicesima edizione, insomma è un evento oramai riconoscibile su tutta la regione Abruzzo, 40 le cantine che hanno aderito, quindi il format è un format dove si può degustare il Cerasuolo, che è il vino nostro abruzzese, insieme poi a una serie di prodotti tipici, quindi parte da Pescara e poi via via si farà tutta la costa abruzzese fino all'11, al 10 di agosto. E poi sempre all'interno di Mediterranea abbiamo fatto come Marina di Pescara un primo assaggio di fermenti che poi verrà e sarà presente in Marina di Pescara all'interno di Estatica alla fine di agosto, un momento anche per segnare l'importanza di questo evento di fermenti perché oramai anche qui tanti birrifici che hanno aderito e voleva essere nel contesto di Mediterranea un modo bello per promuovere il prodotto tipico abruzzese, in questo caso le birre. Chiusura con uno sguardo al futuro. Assessore, guardando un po' avanti, la promozione turistica del territorio dell'Abruzzo si fa soprattutto, visto che noi bene o male la conosciamo, conosciamo i nostri prodotti, la nostra terra fuori da qui, la Regione cosa sta preparando? La Regione io credo che abbia fatto negli ultimi cinque anni un grande passo in avanti. Noi ci stiamo facendo conoscere proprio puntando sull'agri-food, sull'internazionalizzazione, sulla partecipazione a eventi, a fiere internazionali che facciamo fuori dalla nostra Regione, la facciamo a livello nazionale, a livello internazionale o con gli eventi che facciamo della nostra Regione, ma attirando e chiamando a noi bar internazionale e stampa estera, proprio per far conoscere innanzitutto la nostra terra, far capire che siamo una Regione che ha mare e montagne in meno di un'ora, che ha tre parchi nazionali, un parco regionale, un'area marina protetta, una qualità ambientale che è unica e i nostri prodotti, che sono frutto di questa terra unica e incontaminata, hanno una qualità oggettivamente superiore agli altri. Noi stiamo raccontando questo, facendo capire poi ogni particolare stupore a tutto, lo stiamo facendo in collaborazione con un sistema, con un modello, che è il modello Abruzzo, che ci vede coinvolti in prima persona in un accordo stretto con le Camere di Commercio, con i Gall, con tutto il sistema che è parte integrante con i Consorzi di Tutela Vini, insomma con tutti i soggetti in maniera organica, perché andiamo a raccontare l'Abruzzo e poi dall'Abruzzo raccontiamo, tramite le tipicità, le singole zone che hanno una identità, una storia, una cultura e che sono il nostro punto di forza.